Ciao dolcezze, oggi un giveaway per voi, targato Pupa Allora vi dico subito cosa fare per poter partecipare, è molto molto semplice Prima di tutto dovete essere iscritti al mio canale, se non lo siete cliccate il pulsantino che c'è qui sopra il video con scritto iscriviti Poi sotto questo video, solo sotto questo video, potete lasciare un massimo di 5 commenti a persona quindi potete scriverne solo 1, 2, 3, 4 oppure 5 con frasi sensate per piacere perché poi io li leggo e mi diverto tantissimo E poi mettere questo video tra i vostri preferiti e se volete, soltanto se vi piacciono i premi, spolliciate Adesso vi faccio vedere subito i premi Allora il primo premio è questo kit, sono 3 prodotti in uno perché trovate la pochettina, il rossetto e lo smalto Allora sono colori molto naturali, il rossetto è un colore molto naturale, così sta bene a tutti Mentre lo smalto è uno smalto brillante, quindi un glossine polish ed è un rosa chiaro molto molto carino Sta bene sia sulle unghie lunghe sia sulle unghie corte Poi vi ho preso lo smalto della nuova collezione Ciana Doll, è il numero 619 È lo smalto che ho io, è fantastico dolcezze Praticamente dalla boccettina sembra un bordeaux con questi riflessi bronzo Ma in realtà sulle unghie è un viola molto particolare, veramente stupendo Poi alla prima passata è fantastico Un altro premio è il mascara Pupa Vamp, quello nero, il numero 100 Ed infine l'ultimo premio è un nail art kit, si chiama Blue Grey Green, il numero 997 Ed è tutto dolcezze, questi erano i premi, spero con tutto il mio cuore che vi piacciano Io vi auguro buona fortuna a tutte e se volete potete leggere l'info box per vedere la scadenza E tantissime altre curiosità Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video Ciao!